Buonasera, per chi viene dai comuni di Mino, io sono Brasetti Nicola, candidato sindaco alle scorse elezioni e risultato come consigliere di Mino Lanza in questa amministrazione. Dopo un anno e mezzo di azione politica seria, penso, ci sono gli atti e i verbali che parlano, mi sono dimesso per motivi personali che non sono dovuto a specificare, visto che quando uno dice motivi personali potrebbero essere lavoro, famiglia o addirittura salute, quindi rimarrei un attimo nel privato. Però non ho fatto altro che seguire da cittadino le vicende che si sono svolte nel nostro comune, nel nostro municipio. L'ultima esperienza che ho avuto è la mia presenza come unico cittadino tra il pubblico al Consiglio di Luglio, dove veniva portato all'ordine del giorno la permuta dei terreni in questione. Al che ho manifestato l'intenzione di fare un intervento anche da semplice cittadino. In questo intervento quindi non è stato potuto essere messo a verbale, dove ho detto che votare la permuta dei terreni sarebbe stato come mettere la pietra miliare per la costruzione e realizzazione dell'impianto e che sarebbe stato opportuno da parte dell'amministrazione un confronto con la cittadinanza. Il consigliere Giustino Parlati, che è ingegnere come me e ex collega in amministrazione, ingegnere della regione, si è adoperato con tutte le forze immacinabili per portare l'amministrazione, ossia sindaco, vice sindaco e qualche ape operaia che hanno questi signori in comune, che non si capisce che ruolo abbia, a convocare una manifestazione, una riunione per spiegare tutto alla popolazione. Questo secondo me c'è stato con 2 o 3 mesi di ritardo, perché da settembre che lo hanno promesso questo incontro si sono limitati a convocare la riunione il 24 gennaio. Guarda un po', 4 mesi, 120 giorni dopo il 24 di settembre, data in cui è stato approvato alla valutazione di impatto ambientale e quindi dopo 120 giorni ci hanno tolto anche la possibilità di portare ricorso a questa valutazione di impatto ambientale. Il 24 di settembre è stato votato la valutazione di impatto ambientale, il 24 di gennaio è stata convocata dal sindaco la riunione pubblica. In questi giorni, da settembre a gennaio, aspettando sempre la convocazione di questa riunione da parte dell'amministrazione, io mi sono permesso di andare ad avvisare il comune di Spurcola e il comune di Magliano dei Mazzi. Loro adesso hanno detto, hanno preso notizia dagli occhi a stampa, però nel mese di dicembre con una telefonata avvisato il sindaco Uncetelli della realizzazione di questo impianto, il sindaco non è vero o non è vero, quindi non può dire se è vero o non è vero, mentre dopo le feste, a gennaio, sono andato ad avvisare il sindaco di Magliano e Jacoponi, che era riunito in giunta. Qui in sala c'è il testimone, non era lui. Quindi io chiudo con questa recitazione. Allora, quando mi sono regato sia a Spurcola che a Magliano, ho detto che bisognava sicuramente trovare un appoggio nei comuni limitrofi per, cercare di intraprendere questa che sarà una guerra, una battaglia, chiamatela come vi pare, con tutte le competenze e con tutti gli aiuti possibili ed immaginabili. Perché questa è una battaglia, guerra comune di un intero territorio che andrà ad essere non solo deturpato, ma anche declassato. Siamo a 1,4 km dalle mura archeologiche di Alba Fuchez, siamo a 1,2 km dai confini del parco Pelino-Sirente. Quindi, oltre a questo, vorrei dire che sono felice che si costituisca un comitato di cittadini che faccia del tutto per non far realizzare l'impianto, per non far realizzare l'impianto, per evitare. Nella lettera d'invito, il 24 di gennaio, il sindaco diceva per evitare eventuali speculazioni, perché magari qualcuno aveva raccontato di questo impianto in piazza e casomai. Intanto la lettera d'invito è fotocopiata. Adesso le vorrei dare io le eventuali speculazioni. Metterò sostegno come firma al comitato, metterò sostegno economico per quello che serve, per quello che è nelle mie possibilità. Adesso vi saluto per evitare speculazioni in vista delle prossime elezioni. E allora inviterei la cittadinanza tutta, di Massadalte, di Magliano, di Androsano, chi farà parte del comitato, ad eleggere un presidente del comitato, un direttivo del comitato che non faccia parte né delle amministrazioni passate né di quelle future. Grazie, vi saluto, vi bocca al lupo, solo dalla vostra parte voglio che l'impianto non si faccia! Allora...